Sulla data per la discussione della mozione di sfiducia al sindaco Lucio Greco deciderà il presidente del civico consesso Salvatore Sammito. Ieri sera la capigruppo ha valutato il punto, non sono mancati i toni sostenuti, ma lo stesso Sammito vuole incontrare tutti i gruppi rappresentati in consiglio. È probabile comunque che di sfiducia si parlerà solo nei primi giorni di maggio. Tutto è ancora aperto e gli atti finanziari faranno da equilibratori. Una parte della sisi civica, a cominciare dall'opposizione, pare certa che non ci siano i tempi tecnici per far arrivare in aula i documenti finanziari. Il segretario generale Carolina Ferro è intervenuta al tavolo con i capigruppo, ma la linea non cambia. Le prossime scadenze sono incentrate sui riaccertamenti e sul rendiconto. Arriveranno prima della mozione di sfiducia. Allo Stato non sembra per nulla facile. Entro la fine del mese il rendiconto verrebbe approvato dall'Aggiunta e non dal Consiglio Conale perché poi, come lei sa, ci sono i vari passaggi da seguire con revisori, commissioni e quant'altro. Quindi entro il 30 probabilmente l'Aggiunta farà il rendiconto, ragione per cui non sarà in aula prima di quella data. Dopo detto questo ci siamo soffermati su quello che è la mozione di sfiducia che era anch'essa all'ordine del giorno. Da lì ci si sono, come si dice, desciarditi sulla possibilità di presentarla il 2, di mettere ai voti la possibilità di presentarla il 2 di maggio. Qualcuno sosteneva no, il 2 non ci sono. Un altro diceva no, a me non ci sono il 30, io non ci sono il 3. Ragione per cui dopo una serie di discussioni, anche accesi, ma voglio dire in una dialettica politica che le discussioni accesi ci stanno, l'importante è non offendere nessuno, ho deciso di sospendere la capigruppo e fare io una ricognizione fra tutti i gruppi politici che ci sono in Consiglio Conale per prendere la loro disponibilità perché è mia intenzione caratterizzarla subito, a breve, ma che sia più partecipata possibile. Senza atti finanziari l'assessia civica potrebbe spingere l'opposizione potenzialmente ai numeri per sfiduciare l'avvocato greco. L'amministrazione e gli uffici tecnici stanno lavorando sui documenti finanziari, i tempi stringono e i revisori pongono degli obblighi precisi. San Mito comunque darà spazio ai gruppi e la mozione arriverà al culmine di una fase molto complessa con parecchi consiglieri non ancora del tutto convinti di mettere fine all'esperienza greco. L'hanno firmata, l'hanno decantata, l'hanno voluta, ora però i firmatari non sono sufficienti affinché la mozione di sfiducia passi, oltre ai firmatari dal regolamento degli enti locali ci vogliono altri cinque colleghi che avallano i firmatari della mozione, se ci saranno bene altrimenti proseguiremo per l'ultimo periodo di mandato che abbiamo. San Mito intanto ribadisce la sua posizione, anche se il ruolo da presidente della Sisecivica gli consentirebbe di assenersi e esprimerà il suo voto che sarà contrario alla sfiducia. Io la voterò sicuramente perché io non sono per la mozione di sfiducia, io ne ho cavalcato una nel settembre del 2018 e voglio dire non è che la città con la presenza del commissario abbia avuto i lustri che tutti si aspettavano da quella sfiducia, quindi io sarò fra quelli che la voteranno, anzi sarò il primo e posso dichiarare tranquillamente che non la voterò favorevolmente.